25 luglio qui in Consiglio Comunale la maggioranza ha inflitto una grave sconfitta alla democrazia. Quella del TAR che boccia l'operato del Comune di Teramo sulla vicenda del teatro comunale nel rapporto con il privato, la società VeroSRL, è stata una sentenza lapidaria che pesa come un macigno sulla gestione in capo alla Giunta d'Alberto. Lo sostengono in maniera congiunta tutti i gruppi di opposizione dopo aver incastato il no nell'ultimo Consiglio all'istituzione di una più vincolante commissione d'indagine. Che su un fatto così importante come la sentenza del TAR alla quale lei faceva riferimento, e cioè quella che ha sancito un comportamento colposo grave della pubblica amministrazione, dell'amministrazione di Teramo, che ha attaciuto al privato il fatto che quel contratto che rinnovava non poteva essere rinnovato perché era già stato postato il progetto per la sua ristrutturazione che non prevedeva i locali commerciali. Paura e mancanza di trasparenza vengono imputate alla Giunta d'Alberto rispetto alla richiesta della minoranza di poter avere uno strumento, quale quello della commissione d'inchiesta, per fare luce su eventuali responsabilità circa tutto il procedimento sul teatro comunale e anche la legittimità della soluzione trovata poi con un accordo col privato da 450 mila euro. E quella sentenza del TAR il Comune non l'ha impugnata. Non confuta le accuse così gravi che ha fatto in maniera esplicita al comportamento dell'amministrazione. Una volta ottenuti tutti i documenti e richiesti, i consiglieri presenteranno un esposto a Procura e Corte dei Conti. Ma ci sono altri profili, anche perché viene coinvolto il Tribunale di Teramo, perché la società che ha sottoscritto il contratto rinnovato è assuntore di un concordato preventivo che è stato alla base, questo contratto di affitto è stato alla base di questo accoglimento. E c'è un vizio. E quindi il Tribunale di Teramo ha intervenuto su un atto che credeva potesse essere valido. Quindi diciamo che ci sono tanti profili da approfondire, gravi. La minoranza continua a chiedere le dimissioni del sindaco d'Alberto.